Antonio, questo circuito ha un sapore dolce per te, per cui hai vinto il tuo campionato. Sì, qui ci sono delle memorie veramente belle per noi. Una parte importante della mia storia con la forma che è successo qui, poi in pura pandemia non c'era nessuno. Neanch'io? L'hai fatto apposta? Neanche te. A me, tu mi conosci, mi dispiace vincere le gare e il campionato dove non c'è dei amici, dei fan, nessuno, no? Allora siamo qui oggi per una gara di casa, per una gara di Porsche. Speriamo di poter fare un weekend simile, di poter vincere qui, fare un bel risultato per la marca. Ecco, adesso lasciamo perdere le memorie e parliamo di oggi. Cosa puoi dire della pista? Uguale. Bene, è fatta bene, è uguale, è una pista che tutti la conosciamo bene. Vediamo come andiamo qui, però fiduciati possiamo andare bene, che la macchina va a funzionare bene qui. Però secondo me è questo tempo che abbiamo avuto tra le due gare. Siamo andati tutti a fare i test, secondo me arrivano tutti qui con un po' di update. Vediamo dove siamo messi. Ma tu dici uguale, è esattamente uguale a quell'anno scorso o cambia qualcosina? Cambia un pelino, pelino l'ultima curva, il muro, però poco, poco, poco. E cosa ti aspetti? Dobbiamo vincerla? Esatto. Così, vi penso. Ciao, buca lupo.